buongiorno buongiorno video agenti immobiliari quella che sta registrando in questo momento è la nuovissima gopro hero 7 black edition cioè il top di gamma di questa nuova macchina che ho acquistato per vedere se può essere una valida alternativa per noi video agenti immobiliari da sostituire al telefono e al gimbo e faccio qualche prova questa ve la mando così come quindi assolutamente non modificata e poi dopo ci vado a fare un appartamento ciao buone clip a tutti